iniziamo subito con qualche consiglio allora purtroppo io non ho lo swipe up perchè non ho tutti i follower comprati o non ho tanti follower quindi se volete la comodità di avere lo swipe up seguitemi in tanti così avremo lo swipe up la cosa che vi voglio consigliare è questo prodotto questo questo dentifricio Ditis Tooth Past Whitening io adoro cercavo un dentifricio che mi aiutasse ad avere i denti più bianchi possibile questo dopo 10 giorni che lo utilizzate vedrete un cambiamento favoloso non costa tantissimo lo trovate su Amazon io mi lavo i denti normalmente mattina quando mi sveglio e la sera quando vado a dormire se mangio delle cose che mi rimane un gusto che non mi piace mi lavo anche durante la giornata lo so è sbagliato me lo dice sempre anche mio marito ma io sono una allora lavati come potete vedere io vi posso assicurare io vi posso assicurare che li avevo gialli adesso sono 100 volte meglio perché io comunque bevo tantissimi caffè fumare non fumo però ho fumato tantissimo in passato e ho fatto solo uno sbiancamento in tutta la mia vita erano molto gialli e vi posso assicurare che ora la situazione è migliorata poi c'è stato un periodo che lo utilizzavo quattro volte al giorno mi lavavo i denti quattro volte al giorno che sarebbe la cosa normale come mi insegna mio marito che dovremmo fare tutti quando vi sveglia anzi lui mi sa di cinque volte quando ci vi svegliate dopo colazione dopo pranzo dopo cena e prima di andare a nanna io invece faccio sempre quando mi sveglio e la sera perché sono sono così sono svoiata però quando lo utilizzo cinque o quattro volte al giorno sono stupendi vi lascia un sapore di freschezza e non ce ne vuole tanto e nulla io l'ho comprato un mese fa quasi no quasi quaranta giorni fa comunque all'inizio video troverete la pagina Amazon dove andarlo a comprare col prezzo e tutto quanto ripeto se volete lo suoi papà seguitemi molti grazie a tutti